Amici come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale Io sono Luca e oggi ci tocca fare l'acqua salata Bene ragazzi, siamo qui con il nostro bellissimo secchio da 50 litri Faremo 50 litri alla volta Questo è un secchio di plastica PP come sta scritto qui dietro lo faccio vedere Eccolo qua Eccoci qui lo vediamo 05ppi quindi è adatto all'utilizzo per alimenti Ok non dovrebbe rilasciare nulla, ho fatto prima una passata sia con acqua di osmusi che con acqua ossigenata che di nuovo con acqua di osmusi Per disinfettarlo e farlo stare bene pulito semplicemente l'ho riempito un poco con acqua di osmusi L'ho sciacquato con un tovagliolo, l'ho asciugato e poi dopo ho passato acqua ossigenata e ho ripassato un fazzoletto per asciugarlo E poi infine l'ultima passata di acqua di osmusi, questo per tenerlo pulito 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 Qui dentro ovviamente ci andrà una pompa, un termodiscaldatore e adesso ci portiamo il tubo dell'acqua di osmusi direttamente qui Così riempiamo di vicino la vasca il tutto Questo ovviamente poi non lo alzeremo ma io ho una piccola pompa che dopo vi farò vedere per appunto fare il passaggio dell'acqua salata da qui a lì L'acqua salata molto probabilmente la lasceremo circolare almeno un 12 ore per far sciogliere bene il sale Il suo sarebbe far sciogliere un 24 ore il sale completamente Anche se sulla busta del Coral Pro c'è scritto che in due ore si scioglie, si scioglie ma non completamente E quindi per essere sicuri di far sciogliere tutto il sale completamente gli faremo fare un 12 ore almeno Sempre il termodiscaldatore a 25 gradi e anche ci serve calcolare la salinità o misurare la salinità E questo lo faccio vedere dopo perché ho preso un misuratore di salinità diciamo differente da quello che si utilizza solitamente Quindi detto questo mettiamoci al lavoro, ci mettiamo al lavoro, mettiamo acqua, pompa e tutto così facciamo quello che dobbiamo fare Stiamo iniziando a riempire il nostro secchio, voglio far vedere il TTS Adesso questo ce l'avevo in tasca per questo ci marca 34 gradi Però qui lo andiamo a mettere dentro in acqua e come vedete 0 ppm Ovviamente adesso la temperatura scende Però 0 ppm, abbiamo 0 ppm Lo possiamo mettere anche, lo possiamo mettere anche i microsiemens se non mi sbaglio Come vedete qua E mode, eccolo qui Adesso abbiamo messo i microsiemens E ovviamente se lì è 0 ppm Qua sarà 1, 2 No, mi continuo ad andare a 0 Ok 0 Ovviamente queste letture a penna Solitamente non sono super precisi Comunque hanno una risoluzione di più o meno 1 ppm Quindi comunque se non è 0 è 1 Però diciamo le resine sono nuove, tutto è nuovo Quindi sono abbastanza convinto che questa sia un'acqua molto molto pulita Cioè praticamente appunto a 0 ppm Adesso siamo qui col sale Quello che vi consiglio ragazzi è dargli sempre una rigirata al sale Perché si stratifica E particelle più fine, più sottili del sale O meglio dei composti che fanno parte di questo sale Della Rezzi Si tendono a stratificare perché restano fermi tanto tempo In un pacchetto e quindi col tempo Con i movimenti che fanno durante il trasporto o altro Quindi vi consiglio sempre di dargli una rigirata In modo da distribuire un po' più il sale E poi appunto iniziarle a mettere Non lo peserò adesso Andrò un po' qua d'occhio Perché tanto so che questo pacchetto è da 7 kg Quindi inizierò a mettere quello che mi serve per 125 litri più o meno Inizierò a calcolare quello Poi il restante lo metteremo appunto dopo in vasca Piano piano arrivando alla salinità corretta Questo perché appunto così Diciamo facendo poi il calcolo di quanto mi resta di sale So quanto ho utilizzato e quanti sono anche i litri netti Che andiamo a fare di acqua marina Ok? Quindi detto questo Metto il sale E ci vediamo quando l'acqua è pronta E la già iniziamo ad inserire in vasca Allora abbiamo cambiato piani Qui c'è l'acqua con sale che abbiamo sciolto già Sono passate già più o meno 3-4 ore Però nel frattempo Invece di stare così ad aspettare Per fare l'acqua salata Ho iniziato sia a riempire la salinità Con acqua su smoothie Sia sono iniziato a riempire la vasca Allora come vedete la vasca è qui Adesso attraverso questa pompetta Inseriamo a pompare acqua salata Attraverso questo tubo Ok? Che appunto andrà in vasca Come vedete il tubo trasparente E' l'acqua diciamo D'osmosi, il permeato E qui invece avremo la nostra acqua salata Se non mi cade il tubo Posizionatelo bene Ovviamente cercherò adesso un incastro Eccolo qui Questo è perfetto Non si muove più proprio il tubo Ok? Eccoci qui Eccoci qui Qui in mezzo va benissimo Ovviamente ci devo stare vicino Per supervisarlo E questo è tutto L'acqua come vedete Sta iniziando a salire E dopo Inizeremo a sciogliere l'acqua in zamp Poco a poco Anche con la pompa di movimento Così ci dà gioco Tanto comunque lo skimmer Non lo accenderemo Non ho messo ancora nessun materiale filtrante Nulla Praticamente per far in modo che Sciogliamo bene il sale In 24-48 ore E abbiamo tutto pronto Direttamente in vasca Senza fare 2-3 cubi D'acqua Ok? E tre punco Benissimo Abbiamo terminato di riempire la vasca Sampo piena Vasca piena Metà acqua D'osmosi Metà acqua salata Adesso andiamo a correggere con il sale Però Dirvi che Molto probabilmente Adesso facendo le prove Con l'accensione della pompa Credo Che questa Neptune Dell'acquepet Non Non sia sufficiente Da 2500 litri Perché L'acqua Adesso la pompa sta al 100% L'acqua sta arrivando così E Come vedete C'è un rumore Di tracematore Assordante Questo lo devo eliminare Assolutamente Questo rumore Quindi A parte che l'acqua Deve salire ancora di più di livello Dovrebbe arrivare Almeno A questa altezza qui Almeno Dovrebbe arrivare Solo che appunto Sembra che la pompa Non ce la faccia Spingere tanta acqua su E quindi Molto probabilmente Dobbiamo cambiare pompa Però Non è importante Possiamo fare pure il primo mese Così tranquillamente Per adesso Poi andiamo ad aggiustare il livello Le prime 2-3 settimane Mentre aspettiamo che Di prendere una pompa nuova Adeguata Se questo è da 2,5 E non ci riesce Mi sa Mi sa che devo prendere Una pompa un po' più forte Dirvi che non c'è Tubo lungo Tubo largo Cioè Nel senso C'è solo questo raccordo qui Che si ok Può impattare un po' Sulla Sulla portata Della Della pompa Però Non credo così tanto Da non far arrivare Il livello qui Neanche al 100% Quindi Devo vedere un attimo Cosa c'è che non va Con sta pompa Può essere pure Che devo farle Un reset Adesso vediamo Se è possibile Per soltare un attimo Sta pompa Siccome è elettronica Può essere che il controller Abbiamo qualche problema Perché vedo che Quando Premo il controller A basso Aumento la potenza Non noto Tantissima differenza Sull'uscita O comunque Sul livello della Samp Che si abbassa O si alza Quindi Dopo adesso Questo problema Io però non ho un problema Per adesso Possiamo già sciogliere Il sale E iniziare a portare La vasca A 1025 Questo però ragazzi Lo farò Per me sarà domani Per voi sarà un attimo Perché è sera Abbiamo riempito la vasca Adesso cerchiamo Di un po' di togliere Questo rumorino E poi ci vediamo domani Con Lo scioglimento del sale Siamo il giorno dopo E vi volevo far vedere Che Abbiamo Sistemato la pompa Adesso c'è molto poco rumore Ancora devo Aggiustare bene Il livello qui Però Fortunatamente La pompa Ha preso a funzionare Non so se perché Non l'avessimo pulita bene O Non so Era andata in blocco Però comunque Sta di fatto Che l'ho smontata Ho rivisto il rotore La girante E tutto Ho visto che Fosse messo tutto corretto L'ho rimessa su Ed adesso Sta andando In maniera Egregia Dobbiamo far salire Leggermente Il livello dell'acqua Deve arrivare Sopra Questo manicotto Qui Quindi Quindi un altro poco Dobbiamo salire Per poi arrivare Anche in zamp A questi livelli Che mi sono prestabilito L'acqua adesso Leggermente più bassa Siamo qui Quindi un altro poco D'acqua ci manca Andiamo Siccome il tracematore Faceva davvero rumore Abbiamo deciso Di svuotare Leggermente La vasca Per Accedere Al dado Che mantiene Il supporto In posizione E abbiamo voluto Applicargli Con della colla Un foglio di plexiglass Che poi siamo andati A ritagliare E questo Diciamo Abbiamo formato Così un tappo Che siamo andati Poi a tagliare Dove Sarebbe arrivato Il livello d'acqua Finalmente Vasca Stabile Rumore Quasi assente Non si sente più nulla Fortunatamente Abbiamo sistemato Tutto qui Abbiamo invertito Alla fine Abbiamo messo La plastica Diciamo Questo pezzo Di plexiglass Verso l'alto In modo che Qui non facesse rumore Ma prendesse aria Solo Dallo sfiato Che c'è qui Il problema è Che appunto Avendo Un Bucco così grande Entrava Aria Insieme All'entrata D'acqua Ok Quindi Questo che causava Il rumore Il classico rumore Da tracimatore O discarico Si può dire Perché appunto Assorbe aria E acqua Allo stesso tempo E non assorbiva Appunto Non aspirava A questo punto Aria Dallo sfiato In questa maniera Chiudendo un poco Appunto L'entrata d'aria Qui E lasciando Giusto il livello Di entrata D'acqua L'aria La prende da qui E l'acqua Scende giù Qui sopra Come vedete Non c'è nessun rumore Non fa nessun rumore Sto parlando anche pieno Perché è tarda notte E ho pensato di lavorare tardi E oggi solo Mi sono potuto Mettere vicino All'acquario E appunto Adesso abbiamo Un flusso decente In vasca La pompa E' impostata Al 50% Quindi Comunque l'acqua La stiamo mantenendo All'altezza corretta Ok E se scendiamo Il santo L'unica cosa Che fa un po' più rumore E' questo tubo qui Però Devo dire Che comunque Fa un po' di rumore Però è il classico Rumore Da tubo Incurrogato Purtroppo Questa volta Non ho voluto mettere Tubi in PVC Non so per stare a sentire A chi Però Siccome Mi le hanno consigliati Le ho messi Però Penso che E' una cosa Che non rifarò più Quindi Si può sempre cambiare Però per adesso Li voglio utilizzare Vediamo un po' come va Col tempo E poi Traiamo le nostre conclusioni Detto questo Vedete anche qui Un inizio di calzino E qui Che ancora mancano I materiali filtrati biologici E Il livello Il samp L'abbiamo raggiunto Che questo è il minimo livello Questo è il massimo livello Con il rabucco Ok E l'acqua E' contenuta tranquillamente Nella samp Nel caso Ci fosse Mancanza di corrente O un problema Alla pompa Che appunto Non dovesse funzionare E quindi fermarsi La Il ritorno Quindi la risalita Della pompa E Nada mas Gente Lo lasciamo qui per adesso Manca solo la sanità Però come dico sempre Spero che questo video Vi sia stato utile E ci vediamo Al prossimo Vídeo Wack Ciao!